pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati quinta domenica di quaresima ormai in vista della settimana santa giovanni 12 20 33 un testo che ci consegna il dinamismo d'amore che ha spinto cristo donarsi fino in fondo per noi e che in fondo risponde a una domanda seria come posso fare perché la mia vita sia una vita piena realizzata salvata vediamo un po gesù viene a sapere da filippo e andrea che dei greci saliti a gerusalemme per la festa vogliono vederlo e coglie che dietro questo desiderio c'è il desiderio dei pagani delle genti di poterlo vedere cioè di poter accedere a lui di poter credere in lui gesù coglie che è giunta la sua ora dice infatti è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo cioè significa è giunto il momento in cui io compia definitivamente ciò per cui sono stato mandato e gesù dice è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo si parla di gloria istintivamente a noi cosa verrebbe da pensare forse ora si manifesterà in modo glorioso farà qualche miracolo enorme andrà a conquistare il trono e invece gesù parla di tutt'altro anzitutto parlare di gloria nell'antico testamento cabod che viene dalla radice cabad significa essere pesante la gloria indica ciò che conferisce rilevanza onore e riguardo a una cosa o una persona dio è colui che possiede la gloria per eccellenza ora come si manifesta questa gloria in gesù cioè in cosa si rivela la sua sostanza la sua consistenza il suo peso effettivo lo capiamo da quello che dice dopo in verità in verità vi dico se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo se invece muore produce molto frutto chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna in cosa si rivelerà la gloria del signore nel suo dare la vita fino in fondo nel suo far la volontà del padre fino alla fine e nel suo amarci fino alla fine dunque nell'ora della croce detto in altri termini da cosa si vede la gloria di dio nella sua capacità di dare la sua vita ci mostra che la vera gloria dunque è la capacità di dare la vita di rinunciare a se stesso perché dio è amore per eccellenza totalmente libero dal possesso e da ogni traccia di egocentrismo gesù glorificherà il padre compiendo l'opera che gli ha affidato la nostra salvezza e lo farà donando fino in fondo la sua vita il padre accoglie questo dono d'amore del figlio e lo glorificherà elevandolo alla sua destra la gloria l'uno glorifica l'altro in un movimento d'amore incessante di dono di sé totale un bravo autore colvenbach ha detto quindi che la gloria che si rivela sul calvario non è il peso di avere qualcosa né di essere se stesso come possessore ma la gloria di non voler essere altro che amore questo ci dice qualcosa di potentissimo per la nostra vita qual è la vera gloria per un uomo per una donna dov'è che ne vedi la vera sostanza il peso specifico nella sua capacità di dare la propria vita nella sua capacità di far la volontà di dio donandosi per il bene delle persone che gli sono affidate dove ci sono persone innamorate di dio che sanno donarsi fiorisce la vita se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo se muore produce molto frutto come si fa a portare molto frutto c'è da fare come il chicco di grano che è caduto in terra muore qual è l'alternativa pensiamo al chicco di grano se il chicco di grano diciamo così si rifiutasse di cadere a terra che gli succederebbe o qualche uccello passa lo becca o inaridisce ammuffisce in un angolo umido oppure viene ridotto in farina magari macinato e tutto finisce lì se invece viene seminato va sottoterra ed entra in quel dinamismo trasformativo meraviglioso che può far sì che produca frutto tutto cambia nella terra inizia un lavorio infaticabile meraviglioso che potremmo dire è il dono di sé il chicco offre al germe il suo nutrimento come una madre offre se stessa al bambino e quando il chicco ha dato tutto il germe si lancia verso il basso con le radici e poi verso l'alto con la punta fragile forte delle sue foglioline del suo stelo è chiaro il significato anche sul piano umano e spirituale se l'uomo non passa attraverso la trasformazione che viene dalla fede dal battesimo se non accetta la croce dunque se non impara a vivere per fare seguire la volontà di dio e a donarsi ma rimane attaccato al suo modo naturale di essere al suo egoismo al suo vivere per il proprio tornaconto al suo donarsi a tempo finché va se mi va al pensare tutto sommato sempre a se stesso e vivere unicamente per se stesso perdendo di vista gli altri il loro bene insomma non facendo della vita un dono d'amore tutto finisce con lui e la sua vita va ad esaurirsi giovinezza vecchiaia morte se invece crede e accetta la croce in unione con cristo segue la sua volontà e realizza la sua vita secondo il disegno d'amore più grande che dio ha su di lui allora gli si spalanca davanti l'orizzonte dell'eternità in fondo ciò che davvero conta e su cui saremo giudicati ci ha detto san giovanni della croce è l'amore e continua gesù chi vuol salvare la sua vita infatti la perderà e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna anche qui non si tratta dell'odiarsi dell'avercela con sé non so di alzarsi la mattina andare davanti allo specchio e prendersi a insulti no qui signori ci sta dicendo chi vive egoisticamente per sé chi ama la sua vita quindi che vive cose relazioni le dinamiche quotidiane incastrato sul proprio tornaconto pensando in fondo solo a se stesso non donandosi più di tanto si perderà chi invece odia la sua vita cioè non è attaccato a se stesso in maniera egoistica ma si fida del signore si dona agli altri la conserverà per la vita eterna e questo inizia dalle piccole cose di ogni giorno dal cercare il signore alzandosi la mattina per far la sua volontà nel prendersi cura delle persone che abbiamo accanto nel lavorare non solo per il proprio guadagno personale ma anche per servire bene gli altri e la società nello svolgere i propri ministeri incarichi e servizi per donare vita felicità agli altri non per sentirsi meglio degli altri o spadroneggiando sugli altri e via dicendo in certi momenti il sì che saremo chiamati a dire potrà anche non essere facile gesù successivamente infatti se ci fate caso nel testo dirà ora l'anima mia è turbata che devo dire padre salvami da quest'ora ma per questo sono giunto a quest'ora padre glorifica il tuo nome e in un certo senso la versione giovanea della lotta spirituale che gesù vive al gezzemani quando dirà padre se è possibile passi da me questo calice qui lo formula in maniera diversa gesù è per primo questo chicco che muore e anche lui vive nella sua carne la lotta ma qual è la cosa bella cosa dice gesù padre salvami da quest'ora ma io per questo sono giunto qui ecco queste parole gettano luce sui nostri momenti duri dolorosi quando il signore ci chiama ad un passo in più nel dono di sé quando ci chiama a qualcosa che non avevamo messo in conto qualcosa che può anche essere doloroso allora perché noi arriviamo a vivere certi momenti per salvarci o per fidarci di dio e donarci un po di più quando io incontro la resistenza il limite nella persona che ho accanto mi è dato quel momento per scappare o per donarmi un po di più se ad esempio un rapporto di coppia si va raffreddando e un coniuge non sente l'affetto della persona che accanto che fare scappare darsi per vinti o seguire la logica del chicco di grano che si perde si dona rinunciando a sé comunicando affetto all'altro senza attendersi nulla affinché l'altro percependosi amato possa liberamente corrispondere e dunque rifiorire quando io incontro ad esempio il crollo di un progetto di qualcosa che ho coltivato nel tempo cosa fare buttarmi nella tristezza nella depressione o fidarmi ancora più del padre certo che solo attraverso questi momenti i progetti si purificano e se resistono diventano più saldi oppure proprio attraverso questi momenti possono arrivare luci più intense più forti oppure attraverso una malattia cerco di curarmi affronto al meglio la cosa ma ma che faccio mi butto nella tristezza nella depressione cerco di salvarmi a modo mio chissà prendendomela magari col mondo intero oppure posso fare esperienza lì della tenerezza di dio e lasciare che la sua gloria si manifesti in me o poi ci possono essere anche altre situazioni come quella di una donna che dopo sei anni di matrimonio era triste frustrata ossessionata da quello che per lei era l'unico scopo della vita concepire un figlio era arrivata ad odiare tutte le donne stava inaridendo il suo stesso matrimonio riducendolo solo a questo scopo non riusciva neanche a dire il padre nostro per paura che dio la prendesse come una rinuncia da parte sua ad avere un figlio era il chicco di grano che non voleva cadere a terra e morire dopo anni di lotta resistenza grazie anche ad amici credenti trovo il coraggio in un momento di preghiera di abbandonarsi a dio e credere che se lui l'aveva dato un cuore di madre non era perché rimanesse vuoto e sterile pianse una notte intera ma alla fine aveva lasciato cadere il suo chicco di grano e aveva ritrovato serenità iniziarono le pratiche per l'adozione e contrariamente all'attese furono rapidissime e quando per la prima volta tenne in braccio la bambina adottata capì subito che dio le aveva dato un cuore di madre e disse con lei il signore mi ha benedetto ancor più che se avessi avuto una figlia tutta mia il miracolo che dio ha fatto non è stato solo di darci una bambina adorabile vivacissima ma anche di liberare me dall'unica cosa che mi teneva davvero legata e lontana da dio la mia ossessione di decidere io stessa della mia vita che davvero la logica del chicco di grano possa diventare sempre più la nostra logica di vita perché possiamo davvero portare tutti molto frutto che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti